Si è parlato della situazione degli organici nella provincia di Napoli, io ho detto che nel 2020, proprio considerando la complessità della città di Napoli, che devo dire che nel tempo ha avuto un aumento esponenziale anche di turismo, di gente che viene non soltanto dall'Italia ma anche da fuori, quindi è una città che risca per il patrimonio culturale, che ha reso ruibile e quindi ha determinato la presenza di un numero di turisti che ha superato anche a altre città. Ovviamente questo che cosa comporta? Noi abbiamo dalla nostra parte come Ministero dell'Interno e quindi come supporto anche alle forze di polizia che tanto operano bene sul territorio, con una presenza costante, anche con i piani coordinati di territorio che stanno funzionando, ma in 2020 arriveranno circa 400 unità di persone, di personale nuovo tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Questo consentirà un ulteriore controllo e quindi di poter raggiungere, il mio obiettivo è quello che dicevo prima in comitato, noi diciamo sempre che statisticamente i dati sui delitti e i reati sono in diminuzione, quindi il trend è in diminuzione, però noi ci dobbiamo scontrare anche con un altro problema che è quello della sicurezza percepita. Io condivido il ragionamento che lei ha fatto, sottolineando ormai un livello consolidato ed eccellente di cooperazione istituzionale, anche io l'ho trovato un comitato concreto in cui si è parlato di tante cose che si sono fatte e tante cose che si devono fare, quindi io non aggiungo altro perché so che ci sono esigenze di brevità, perché condivido il discorso che ha fatto lei e credo che in questo momento soprattutto quando si parla di sicurezza c'è bisogno di condivisione di idee, di comportamenti e di concretezza e noi stiamo qua per lavorare insieme per rendere Napoli sempre più sicura e sempre più efficiente.